Dopo il racconto della crisi con Giorgia, la cantante e moglie, viene immortalato in una foto con una ballerina Emanuello è un ballerino professionista, attualmente ingaggiata presso la rete Mediaset per fornire la sua presenza al servizio del talent show di Maria De Filippi, Amici Emanuello è molto ben voluto nel settore e, anzi, una delle sue caratteristiche più apprezzate, è l'energia I suoi balli e le sue coreografie sono stati spesso giudicati esplosivi Talvolta, proprio per la natura dello show, Emanuella ha necessità di esibirsi, in modo tale da far comprendere al meglio i passi che gli altri, gli allievi, dovranno imparare e interiorizzare In quelle occasioni, lo fa cadere giù il palco.Tuttavia, da un punto di vista umano, è bene sottolineare che Emanuella abbia avuto spesso frizioni con i collegi insegnanti Il più delle volte, questi hanno avuto pareri contrastanti riguardo al salvare o meno degli alunni della scuola più amata di tutta la penisola italiana Tra questi, vi è sicuramente Lorella Cuccarini, altra insegnante di danza Tuttavia, nonostante tutto, Emanuello è stato sempre ben voluto In un certo senso, prima di questo ultimo evento che lo vede protagonista, è sempre stato poco sotto i riflettori Finché una delle sue alunne non ci si è messa di mezzo.La foto incriminante A quanto pare, Emanuello è stato sorpreso fuori dagli studios di amici in compagnia di una sua studentessa Secondo tutti, la foto è inequivocabile, ma non nel modo in cui si possa pensare Questa foto è stata tra l'altro postata sui social, insieme a tante altre La ragazza in questione è Isobel Kinier, ballerina provetta che ha incantato il mondo di Canale 5 con le sue doti di ballo Inoltre, molti non si rendono conto di quanti anni effettivamente abbia Isobel sembra una donna adulta, ma ha appena la maggiore età In effetti, la foto in questione è senza dubbio una foto amichevole Non c'è ombra di dubbio, poiché Isobel ha più volte parlato del maestrolo come se fosse un fratello maggiore o addirittura uno zio tanto caro che insegna loro la verità sulla danza Infatti, nella sezione commenti del post di Isobel non c'è stato nessuno che abbia frainteso la foto Emanuele è in effetti felicemente sposato con Georgia, benché abbia confermato di aver vissuto insieme a lei dei momenti di crisi